Pronta la richiesta per un'ulteriore proroga della Cassa Integrazione per la JEP Industries di Fabriano, ammortizzatore sociale con causale Covid, spiega la proprietà in una nota ai sindacati di categoria Fim Fium Wilm. Se fosse concessa questa ulteriore proroga, l'azienda di proprietà dell'imprenditore Giovanni Porcarelli, che ha rilevato il settore del bianco della ex Antonio Merloni, potrebbe traguardare il dodicesimo anno consecutivo con l'utilizzo della Cassa Integrazione di cui quattro come Antonio Merloni, quasi un record nazionale. Per le parti sociali questo periodo va messo a frutto una volta per tutte per un serio piano di rilancio. La proroga che si intende richiedere è di cinque settimane dal 6 luglio all'8 agosto prossimo, interessati complessivamente 584 dipendenti, 305 degli stabilimenti di Fabriano, Santa Maria e Maragone, 269 operaie e 36 impiegati, 279 del sito di Geffana, il sito Umbro, 268 operaie e 11 impiegati. Ci aspettiamo un piano che metta al centro la continuità dell'azienda e che nel contempo tenga nel dovuto conto tutti i rilievi e le osservazioni formulati qualche mese fa dal Tribunale fallimentare al piano concordatario che i vertici di JEP avevano presentato a fine gennaio scorso e che prevedeva, fra l'altro, benne 343 esuberi, salvo poi averlo ritirato. Ed è altrettanto evidente che con il nuovo piano industriale si dovranno individuare meccanismi per il sostegno dal reddito dei lavoratori in vista dell'attuazione del piano medesimo, hanno commentato in una nota i sindacati di categoria.